Signorina, ho anch'io l'oggettino che suggerisce una canzone. Ma, Pierino, con una sega quale canzone vuoi suggerire? Solitudine! E ci avrei un fratello all'università, è un fenomeno! Ah, meno male. E che cosa ha fatto il fratello all'università? Niente, stai in un barattolo sotto spirito. È nato con quattro palle!